Stiamo svolgendo l'Italian Cup 2024, dopo un po' di sospensione perché la ferma dal 2017 è l'ultima competizione fatta. Adesso abbiamo avuto l'occasione di riportare a galla questa classe molto bella. Da ieri abbiamo fatto le batterie di flotta per stabilire chi entrava nella semifinale. Oggi abbiamo anche una bella giornata di vento, quindi stiamo regattando bene. Ieri abbiamo avuto un po' un calo, però comunque siamo riusciti a fare delle belle regate, siamo riusciti a farne 12. Da lì abbiamo tirato fuori da 10 i primi 8 che andavano poi nelle semifinali. Dagli 8 delle semifinali sono stati fatti dei match race, quindi erano ogni match race, ogni 2 regattanti e 3 regate per stabilire il primo che arrivava a 2. Da lì abbiamo fatto i quarti, quindi da 8 ore restanti ne sono rimasti 4. I due, quindi io e Gianni Penta in finale e adesso si sta sfidando Marco Marchetti appunto con Mario Codroico per il terzo e quarto posto. Dove oggi è rimasto un po' sfortunato perché girando nel laghetto deve aver rutato qualcosa e ha avuto un danno alla deriva e al bulbo, quindi alla barca è un po' rallentata. Mi è dispiaciuto, ma a me però siccome batte contro di lui mi è andata bene che sono andato in finale. Siamo in 10 regattanti di cui 3 del gruppo modellistico di Ferrara, poi abbiamo Stefano che arriva da Campiglia, provincia di Livorno, poi abbiamo 2 romani, 2 di Bologna. Uno dei due poi è un Mario Codroico che è costruttore e stazzatore di questa classe e qui abbiamo 4 barche sue costruite da lui. Io ringrazio anche sempre il nostro presidente Franco Ragazzi che ci dà l'opportunità di fare tante belle cose, ci sostiene e grazie anche alla sua esperienza che nel campo da molti anni ha una grande conoscenza e anche di tante persone che riesce a fare in modo di far creare delle cose che se uno sarebbe difficile. Ringrazio il mio sostegno che è quello che mi tiene sostenuto anche per cui va alla Barca Vella e adesso più avanti cominciamo a aprire il nostro museo dalla domenica, dalla 10 mezzogiorno.